Buongiorno, buongiorno, bentrovati con un caffè con la nostra rubrica. Tutti i giorni ci consente di scambiare quattro chiacchiere con alcuni tra gli esponenti politici e non solo del territorio marchigiano. Bentrovati da parte mia, Matteo Porfiri, ringrazio e saluto di nuovo Domenico Delzompo in regia per l'assistenza tecnica. Oggi siamo nel Piceno, in particolar modo abbiamo ospite il sindaco del comune di Venarotta, Fabio Salvi. Buongiorno sindaco, bentrovato. Buongiorno a tutti, ciao Matteo. Allora facciamo un po' il punto della situazione, sindaco, perché non ci siamo sentiti da qualche mese, eppure questa è stata un'estate molto importante per la sua comunità e in particolar modo per lei, perché non dimentichiamoci che agli inizi del mese di giugno ci sono state le elezioni comunali e lei è stato riconfermato per la terza volta, se non ricordo male, addirittura alla guida del suo comune. Ecco, torniamo alle elezioni, che tipo di soddisfazione è stata? Eravate in due a concorrere per la poltrona appunto da sindaco, lei ha battuto il suo avversario Maravalli, tra l'altro con una percentuale stratosferica, quindi un grande risultato. Sì, è stata una sessione elettorale che ci ha gratificato per il lavoro svolto sicuramente, quindi tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti. Soprattutto ha sancito una sensazione, una pace di comunità, quindi abbiamo visto il paese abbastanza unito anche nelle intenzioni, una campagna elettorale dai toni morbidi e quindi diciamo che in questo momento stiamo vivendo in un clima politico favorevole all'interno del nostro paese. questo ci aiuta a essere più propositivi, ci aiuta a raccogliere un pochino più le proposte di tutti e a lavorare in un clima di pace, diciamo. Qual è stato il segreto di questo grande risultato che avete ottenuto? Una percentuale che se non ricordo male attorno al 90%? Circa 94, 93, 96. Quindi mi ero tenuto anche basso, insomma. Qual è stato il segreto, insomma? Perché insomma 93, 94% è una cosa assurda. Come accennavo prima, noi abbiamo identificato il segreto di questo successo intanto nel colloquio con la cittadinanza. Quindi noi abbiamo avuto sempre un'amministrazione aperta che dal momento delle elezioni non ha fatto mai una divisione tra colori. Quindi questo secondo me è il maggior segreto. Il maggior segreto è quello di un'amministrazione che parla con le persone, che si confronta, che raccoglie le necessità. Poi non è detto che tutte le necessità o tutte le segnalazioni vengano processate secondo la volontà dei cittadini, però c'è una trasparenza immensa che secondo me premia. La seconda regola secondo me di questo successo è stata proprio appunto quella di aver creato un clima nei dieci anni precedenti di pace, di tranquillità. Quindi un lavoro costante di inibizione delle divisioni all'interno del paese che porta poi alla fine a una comunità un po' più unita. Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere in questi ulteriori cinque anni, lei è sindaco appunto dal 2014, è già stato dieci anni alla guida della comunità venarrottese, tanti risultati raggiunti su tutti di recente la nuova scuola che avete appunto inaugurato. Ecco, i prossimi cinque anni come saranno invece? Allora, i prossimi cinque anni dovremo portare a termine quello che abbiamo promesso ai nostri cittadini, quindi riportato nel programma elettorale. Il programma elettorale ha dieci punti fondamentali la cui essenza è quella di completare tutte le opere che abbiamo avviato. Venarotta in questo momento è un bel cantiere, abbiamo completato la scuola come hai giustamente ricordato, ma ci sono tantissimi altri cantieri che sono in corso, sia legati alla ricostruzione che sia legati a progetti PNRR o progetti di innovazione. Quindi un primo macro obiettivo è quello di completare questa grande pagina di opere pubbliche. Il secondo obiettivo è fare in modo che queste opere servano per la crescita della comunità, quindi rafforzare il piano sociale, il piano socio-economico, fare in modo che la comunità sia viva, considerando alla base di tutto un problema serio di calo demografico, che non interessa solo Venarotta, io questo lo ricordo sempre. Noi abbiamo un problema serio in Italia di calo demografico, non di persone che si spostano in altri comuni, ma proprio di nascite. Quindi in questo scenario noi dobbiamo creare un tessuto socio-economico che possa sostenere il paese nei prossimi anni, quindi reinventarci un po' anche quella che è la vita di tutti i giorni, quelle che sono le attività. Tutto questo funziona se alla base c'è una buona comunicazione, quindi stiamo facendo tanti lavori per potenziare la comunicazione, per renderla comunque allineata a quello che è il contesto attuale, quindi tutta la digitalizzazione, i servizi digitali, le nuove comunicazioni, i nuovi strumenti di lavoro. Non dimentichiamo sicuramente il mondo dei giovani, perché dobbiamo coinvolgerli un po' di più in quello che è la vita del paese e renderli protagonisti. Quindi mi sembra di capire che ci sia un problema di calo demografico, come fare per poter in qualche modo contrastare questa emergenza spopolamento che, come diceva lei, Sindaco, non riguarda solo Venarotta, ma un po' tanti comuni dell'entroterra, soprattutto dopo il terremoto magari del 2016, con tante famiglie costrette un po' per ricevere il CAS, un po' eccetera, per altri motivi sono state costrette a spostarsi altrove, no? In realtà Matteo, vi sottolineo che il problema non è di tanti comuni del Piceno, è di tutti i comuni del Piceno. Beh, anche ad Ascoli c'è stato, anche nel capoluogo. Sì, sì. Guarda, c'è un sito, invito lettori a... c'è il sito dell'Istat, ci sono i siti del ministero in cui ci sono i dati, tutti i comuni sono in calo perché il numero di nascite è molto inferiore al numero di decessi. Poi in alcuni casi ci sono degli spostamenti di residenza, magari nei comuni più terremotati eccetera. Il problema è molto più ampio di quello che può fare un comune da solo perché qui abbiamo proprio la necessità di rimettere al centro la famiglia, fare in modo che le famiglie ritornino a fare figli in un numero sostenibile rispetto a quello che è il rapporto nascite-morte, ma con programmi che nascono molto a monte. Noi nel nostro piccolo abbiamo individuato sicuramente il discorso della scuola. Quest'anno stiamo facendo tutti gli sforzi per aprire per la prima volta a Venarotto un asilo nido. Quindi partiremo con questa esperienza perché abbiamo capito che i servizi alle famiglie sono importantissimi. Ma c'è una rivoluzione culturale da fare che deve interessare gli organi più alti dello Stato. Noi nel nostro piccolo cercheremo di costruire una comunità che dà tutti i servizi possibili. Sappiamo che questo non basta e quindi in parallelo dobbiamo costruire, immaginare un paese del futuro con numeri un po' più bassi. Cosa che purtroppo dovremo fare tutti sia nelle Marche ma in Italia in genere. Com'è la situazione post-sisma? Dicevamo che anche Venarotta è stata seriamente danneggiata dal terremoto di ormai otto anni fa. Com'è la situazione di ricostruzione? Allora, lato ricostruzione privata, diciamo che ci sono tanti cantieri. Siamo a buon punto, anche se mi aspetto nei prossimi anni un incremento dei lavori per la ricostruzione privata. Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica, come abbiamo accennato, noi abbiamo dato priorità massima alla ricostruzione della scuola, abbiamo fatto diverse opere all'interno del comune. Adesso abbiamo un grande obiettivo nei prossimi anni che è quello di ritornare nel vecchio municipio. Come i miei cittadini sanno, il comune storico è inagibile, noi siamo collocati in una sede temporanea e adesso inizieremo a concentrarci nel vecchio municipio per il quale abbiamo già le risorse disponibili assegnate, ma l'esercizio è abbastanza impegnativo perché parliamo anche di un edificio storico. Poi abbiamo alcuni lavori sui cimiteri. Noi abbiamo diversi cimiteri in tutte le frazioni, e anche lì dovremo fare delle opere post-sisma, minori però hanno fatto. Quindi, lato pubblico abbiamo fatto una buona fetta e adesso punteremo al municipio. Quante persone ancora devono rientrare nelle loro abitazioni? Abbiamo diverse famiglie che comunque per la maggior parte sono collocate nell'area di Venaro. Diciamo una cinquantina di famiglie, più o meno, 40-50 famiglie. Ripeto, la maggior parte, circa l'80%, comunque sta percependo il cazzo o altre forme di aiuto all'interno del comune. Quindi per noi non c'è stata una migrazione post-sisma legata al sisma. Tra l'altro siete riusciti a evitare le casette voi, rispetto magari ad altri comuni. Sì, immediatamente dopo il sisma, grazie ai colleghi dell'amministrazione e ai tecnici comunali, abbiamo fatto una bella ricognizione, anche parlando con le persone, collaborando, e abbiamo preferito non montare le casette perché la disponibilità di altri immobili riusciva a coprire le esigenze. Questo comunque ci ha permesso di evitare sforzi aggiuntivi, consumo di suolo e altre attività che purtroppo si sono rese necessarie nei comuni più interessati. Volevo anche un attimino porre l'attenzione sui obiettivi che avete raggiunto in questi dieci anni. Abbiamo parlato del prossimo mandato, ma torniamo ai due precedenti, perché ci sono state diverse emergenze che avete dovuto contrastare. Ovviamente la pandemia, quella è valsa praticamente per tutto il mondo. Il terremoto, ancora prima ci fu la tragedia dei tornado sulla quale tra poco torneremo. Sono stati dieci anni intensi, Sindaco, dove avete raggiunto tanti obiettivi, anche ad esempio sul fronte del turismo, perché Venarotta non è mai stato un comune prettamente a vocazione turistica, eppure siete riusciti a richiamare tante persone grazie alla piscina, grazie anche alle attrazioni che avete introdotto per il periodo estivo. Il cammino, il pellegrinaggio della marca. Sì, ti ringrazio per questa domanda Matteo, perché hai colto un po' il segno. Sono stati dieci anni in cui comunque abbiamo dovuto gestire diverse emergenze, quindi quando si gestisce l'emergenza si fa più difficoltà a programmare e a realizzare programmi strutturati. Quindi diciamo che è stato un buon risultato quello delle amministrazioni degli ultimi dieci anni, portare avanti alcuni programmi che a volte chiamo anche visionari e nello stesso tempo gestire le emergenze. Come ho detto prima, vogliamo che i prossimi cinque anni li immaginiamo di completamento di tutte le attività fuori da un mondo di emergenza. Per gli anni passati, come ho detto, fuori da questi eventi che hai citato, abbiamo lavorato molto per far riscoprire un po' quello che chiamiamo turismo, vita nel paese, non lo so come lo vogliamo chiamare, perché il nostro non è un vero e proprio turismo da grande città. È un turismo lento, vengono molte persone attraverso i cammini, quello è vero, perché noi abbiamo tre cammini che passano a Venarotta, c'è un incrocio di cammini, perché c'è il cammino francescano della Marca, il grande anello dei Borghi Ascolani e il cammino del Terzo Paradiso. Abbiamo fatto un grande lavoro con la piscina, che in quest'estate è stata sempre piena, è un punto di ritrovo anche per i paesi vicini, anche per l'Ascolano, che permette comunque di fruire di un ambiente sano in mezzo alla natura, e molto comodo e economico. Vicino alla piscina stiamo completando quella che è la cittadella dello sport, un altro elemento che abbiamo messo al centro della nostra agenda, cioè quello di dire che Venarotta si può caratterizzare anche attraverso lo sport, perché siamo comunque vicini ad Ascoli e stiamo offrendo un servizio eccellente. Abbiamo adesso un nuovo campo in sintetico da un paio d'anni e stiamo completando con tutta una serie di strutture, quindi altri spogliatoi, altri campi, i paddol, eccetera, eccetera, affinché questo sia un training center, un centro sportivo e oggi è molto frequentato perché abbiamo attivato una collaborazione con la società Atletico Ascoli, quindi una società che milita in serie D e che qui ha un po' un suo satellite, soprattutto per quello che riguarda il settore giovanile. Oltre poi a tutte le altre società abbiamo avuto modo di far ripartire anche sport diversi tipo la palla a volo, quindi anche questo è un elemento che ci caratterizza, il turismo sportivo ci potrebbe caratterizzare. C'è tanto da fare ancora perché dobbiamo costruire quello che è un modello futuro del nostro piccolo paese. Allora, dicevo prima che il suo battesimo da sindaco fu un battesimo complicato, perché dopo pochi mesi ci fu la tragedia dei tornado. Volevo un attimino parlarne perché quest'anno appunto ricorreva il decimo anniversario da quella tragedia che tutti ricorderete con quattro piloti che persero la vita il 19 agosto del 2014. Quest'anno c'è stata una bella celebrazione a Gimigliano, lì dove c'è il monumento dedicato ai caduti. Sindaco, qui vediamo alcune foto, ad esempio se riusciamo a mandare in onda anche il tablet, sono sulla pagina dell'arma aeronautica, ecco qua appunto dove ci sono diverse foto della cerimonia, la quale, ecco, questo è il padre di uno dei piloti morti, Palminteri. Dicevo, è stata molto molto toccante ed è stata anche inaugurata una nuova targa, eccetera, quindi un ricordo che non si spegne nonostante il trascorrere degli anni, no? Che anniversario è stato questo per una tragedia che non riguardava a Venarotta, non c'erano venarottesi coinvolti però ha profondamente, no? In qualche modo segnato la vostra comunità. Sì, la cerimonia è stata in linea con quella che abbiamo fatto ogni anno negli ultimi dieci anni. un taglio molto sobrio perché comunque quello che andiamo a ricordare è un evento tragico, doloroso con un'organizzazione che condividiamo insieme alle famiglie, l'associazione Arma Aeronautica e l'Aeronautica e diciamo che in questo anniversario noi andiamo sempre a focalizzarci su alcuni valori importanti che un po' hanno caratterizzato questa vicenda. il primo diciamo un po' più emozionale che è quello di una comunità che si è stretta intorno alle famiglie di questi ragazzi, la nascita di tante nuove amicizie e di tanti nuovi rapporti. Noi abbiamo rapporti quotidiani durante tutto l'anno con gli amici, con i colleghi di corso, con tante persone dell'Arma che qui vengono, ci chiamano. Abbiamo costruito un rapporto, quindi questo diciamo è un'emozione che tutta la comunità porta dentro. Il secondo, molto importante, è quello del lavoro delle istituzioni. Le istituzioni debbono collaborare, debbono mettere il meglio di sé in ogni esercizio e quello fu un momento in cui la comunità di Venarotta, quindi l'istituzione, la comunità di Venarotta doveva dare un supporto e lo ha fatto nel migliore dei modi. Lì si è creato un rapporto di collaborazione con l'Arma Aeronautica che poi al momento del bisogno, durante il sisma, è stato sempre a fianco a questa comunità. Quindi il valore delle istituzioni che anche in un momento tragico, di tensione, di preoccupazione, riescono a collaborare ognuno per la propria parte. Quindi questo è un elemento che caratterizza Venarotta e che porteremo sempre dentro, anche attraverso questo monumento che nell'occasione è stato restaurato, perché dopo dieci anni aveva bisogno di un po' di manutenzione, c'è una nuova targa, quindi grande attenzione a mantenere vivo il ricordo di questa vicenda. Prima di salutarci torniamo un po' a questo nuovo mandato, perché lei non lavorerà da solo, ma ha una squadra al suo fianco, ha nominato la Giunta e ha una squadra anche composta da qualche giovane. La squadra è composta da diversi giovani, come accade in queste circostanze c'è stato un piccolo ricambio di alcuni elementi, quindi qualcuno ha deciso di fermarsi per diversi motivi, qualcuno nuovo che è entrato. Quello che stiamo facendo con questo gruppo è quello di mantenere sempre alto il livello di coinvolgimento, quindi oltre alla Giunta ogni consigliere ha ricevuto una sua delega per poter lavorare in autonomia su alcuni temi, stiamo impiegando questi primi mesi perché siamo al terzo mese di mandato proprio per strutturarci al meglio, quindi abbiamo preferito spendere un po' di tempo inizialmente per lavorare e concentrarci su quella che è la governance di questo gruppo, definire bene ruoli e responsabilità e quindi contiamo adesso da settembre di iniziare a incrementare le attività che metteremo in piedi. È un gruppo molto motivato, ringrazio tutti questi ragazzi come ringrazio i precedenti amministratori perché davvero, io lo dico sempre, il sindaco da solo sarebbe una persona sola che non può mettere in piedi nessun risultato, quindi è grazie al coinvolgimento di questi amministratori molto attenti anche a ricevere quelle che sono le esigenze del territorio, a comunicarmelo, a comunicare con le persone che si realizzano obiettivi importanti. Naturalmente grazie anche al coinvolgimento di tutti i dipendenti del comune, noi siamo una piccola famiglia, quindi poche persone che fanno tante cose e lo fanno con grande passione, quindi questo è davvero un risultato importante. Vedo la foto del primo consiglio comunale, abbiamo da subito instaurato un rapporto di collaborazione anche con la minoranza perché ritengo che dal momento in cui le elezioni si sono svolte e poi da quel momento in poi tutti debbano lavorare per tutti i cittadini, quindi diciamo che siamo partiti con il piede giusto e con il giusto livello di motivazione e di coinvolgimento da parte di tutti. Qual è il sogno da realizzare in questi cinque anni? Come vorrebbe lasciare il paese tra cinque anni? Io sogno un paese in cui ci sia la scuola al centro di tutte le attività, una scuola che possa dare i servizi alla popolazione dal mattino alla sera, quindi non solo con le attività scolastiche classiche, è una scuola che sia il fulcro del paese, un paese vivo, in fermento, con tante attività culturali e speriamo con un'inversione di segnale dal punto di vista della tendenza demografica. Mi piacerebbe molto vedere che la nostra nazione inverta questa tendenza e si ritorni magari a crescere piuttosto che a scendere. Magari con qualche incentivo per le giovani coppie, per le famiglie? Guardi, gli incentivi già ne abbiamo tanti a Venarotta, perché abbiamo fatto una serie di programmi per la nascita, per l'accoglienza. Lo scorso anno, ricordo, siamo riusciti a dare il servizio totalmente gratuito presso l'asilo, quindi trasporto gratuito, menso gratuito, però ritengo che non sia quello l'elemento sufficiente per poter ripartire. Gli vogliono interventi importanti a livello di tutta la nazione, che proprio cambiano culturalmente e la gestione di quella che è la vita quotidiana delle famiglie, assolutamente. Però noi faremo quello che possiamo fare nel nostro piccolo, anche continuando a interloquire con le strutture più importanti, quindi con il governo, anche attraverso i nostri rappresentanti, con la regione, eccetera, per proporre quelle che sono iniziative. Io scrivo sempre molte lettere in cui faccio proposte, osservazioni, eccetera, ma ritengo che anche questo possa essere utile per proporre un cambiamento. L'opera pubblica invece da realizzare in questi cinque anni, il sogno per quanto riguarda l'opera pubblica? Il sogno è tornare nel vecchio municipio. Quindi ci siamo, dovrebbe realizzarsi. Sì, dovrebbe realizzarsi, dovrebbe realizzarsi, anche perché io personalmente ho avuto un ufficio da sindaco per pochi anni, per un anno, e poi sogno il giorno in cui torno in un ufficio da sindaco decente. Sicuramente, innanzitutto grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e buona fine estate, perché so che insomma ancora avete tante iniziative e tanti progetti anche nel mese di settembre. Sì, c'è un settembre molto ricco di iniziative, quindi vi invito a seguire le pagine Facebook e il sito del Comune, perché praticamente per ogni weekend avremo un'iniziativa da qui fino ad ottobre, e vi ricordo che il 13 ottobre, quindi chiuderemo un po' tutto il cartellone estivo-autunnale, ci sarà la grande festa del vino, quindi un grande evento che l'anno scorso ha richiamato tantissime persone a Venarotta per festeggiare questa che è un po' una tradizione delle nostre terre. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a te e saluto tutti quanti. Grazie al sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, per essere stato con noi questa mattina. Un caffè con termina qui, grazie a Domenico del Sompo in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.